Musica Finalmente torna a grande richiesta, è stata in pizza. L'evento organizzato dall'associazione Genusia Maninpasta, questa volta cambia location. Infatti è stata scelta per questa seconda edizione il lungomare di Marina di Ginosa. Questa mattina conferenza stampa di presentazione dove ha partecipato l'amministrazione Valerio Bastelli, presidente dell'associazione, e Valentina Di Nardo, DRG Studio, che si è occupata della parte artistica. Saranno due giorni completamente dedicati al gusto e al divertimento. Cosa aspettate? Non fatevelo raccontare. Il 31 e il 1 agosto tutti a Marina di Ginosa. Noi ci saremo. E tu? Torna finalmente estate in pizza 2023. Dopo sei anni di una lunga assenza, quest'anno siamo riusciti a organizzare questo evento, sperando che raddoppiamo i numeri dell'evento di sei anni fa, facciamo come i mondiali, lo facciamo una volta ogni tanto, sperando che vada molto meglio. La location abbiamo spostato sempre Ginosa Marina, il nuovo lungomare Luigi Strada, quindi la location sarà quella. Vi aspettiamo numerosi perché troverete di tutto, dalla pizza alla bevanda al dolce, troverete intrattenimento per i bambini, per i grandi, musica, live, dirette, ci sarà il Reggio Studio, ci sarà tanta roba. Vi invitiamo tutti a lungomare. Ci saranno la bellezza di otto punti pizzeria, quindi otto stand di pizzeria con tutti i migliori pizzeriolo di Ginosa e Ginosa Marina. Abbiamo pensato un po' a tutto in quelle sere, ai grandi, ai più piccini, a intrettenere tutti coloro che verranno ad assaggiare le pizzerie di Ginosa e Marina di Ginosa. Avremo come ospiti la tribute band dei Queen, i Mr. Queen, avremo animazione per bambini, sbirulina animazione. Poi avremo Bing, Cenerentola e Spider-Man, sempre per i più piccoli e ci saremo noi di RG Studio con Enzo Carducci e Gianni Ribecco per le dirette e per farvi compagnia con tanta musica e tanti ospiti e artisti locali anche del posto. Non vi svelo tutti i nomi, venite a vederci, vi aspettiamo il 31 luglio e il 1 agosto per la seconda edizione di Estate in Pizza. Ciao! Vi aspettiamo lunedì 31 e martedì 1 agosto sul lungomare Luigi Strada per degustare una serie di prelibatezze che saranno messe in campo dai nostri mastri pizzaioli, mastri fornai, con ovviamente tutto il contesto che riguarda la nostra bellissima marina. L'associazione Mani in Pasta che ritorna con questa kermesse molto importante nel nostro territorio che raccoglie tante adesioni di tanti commercianti e collaboratori locali, anche artisti locali. Lo fa con un format nuovo, innovativo, coinvolgente che sicuramente riuscirà a realizzare l'estate per quanto riguarda i turisti. Un evento che porterà sul lungomare tanta gente che potrà degustare le pizze tipicamente autoctone, quindi fatte con materiali locali, fatte da pizzaioli locali, ci saranno sia quelli di Mariana Inginosa che di Ginosa che contribuiranno a formare questo prodotto.